La procedura del marchio prevede che i cointeressati devono essere auditi, di solito queste audizioni si fanno in camera di commercio, è legittimo che anche un calabrese possa chiedere il tiramisù, piuttosto che un siciliano, ma buon senso vuole che poi si sente il territorio, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Il territorio cosa vuol dire? È l'audizione! Ma sì, ma voglio dire, non è che le cose si fanno riservatamente, la questione era pubblica, conosciuta di chi? E la questione doveva intervenire lui? Dai, te che ha fatto anche oggi la tua uscita, dai. Che è un'offerta di questa nazionale? Sì, ma il mio governo vedo, dite se ho posizioni, infatti si vede. Un faccia a faccia che non risparmia frecciatine dall'una e dall'altra parte, quello andato in scena tra il governatore Luca Zaia e la senatrice dell'OPD Laura Puppato, al centro il tiramisù, riconosciuto ufficialmente come prodotto tipico del Friuli Venezia Giulia. Il Partito Democratico accusa la regione di non aver fatto abbastanza, così il dolce probabilmente più conteso della storia, la cui paternità è sempre stata rivendicata da Venezia e Treviso, viene ora conquistato dal terzo incomodo. Ma il presidente Zaia spiega come nella procedura di assegnazione al Friuli si è mancata un'audizione pubblica. È legittimo che una regione possa chiedere una protezione, ma non è legittimo che venga fatto un decreto senza sentire le controparti. Non si tratta più solo dunque di semplice orgoglio territoriale, la partita intorno al tiramisù diventa una questione politica con la regione decisa ad andare avanti. Io invito a revocare il decreto, altrimenti lo impugneremo, c'è poco ma sicuro. Intanto uno dei dolci più famosi al mondo approda in Parlamento con il senatore di Alternativa Popolare, Franco Conte, che ha presentato una interrogazione al Ministero delle Politiche Agricole per chiedere i motivi per cui era stata riconosciuta al Friuli la tipicità e se il Ministero aveva rispettato tutti i passaggi di verifica anche in contraddittorio che sono previsti in questi casi.